Gli incontri con i ragazzi Giffoni sono incredibili, cioè pensi di essere abituato perché in realtà questa non è la mia prima volta, ma ho appena fatto una masterclass e a seguire nella sala Truffaut un secondo incontro e ho ricevuto domande da ragazzi dai 7 anni fino ai 18, ai 20. Ho visto un video ricattatorio cercando di farti commuovere e piange, io ho resistito fino proprio al massimo, ma un po' forse non ce l'ho fatta, perché ti dici madonna mia quante cose. L'entusiasmo è contagioso in genere, in assoluto, nella vita. E qua, soprattutto anche quando è autentico e quando il 100% dei casi è una cosa di puro divertimento, è un festival particolare, per questo è unico nel panorama internazionale ed è imitato, esportato, perché ti arriva una botta ogni volta, è più o meno quello che mi ricordavo dell'altra volta. Io sono venuto nel 2013, mi sembra, sì, avevo fatto Acab e anche lì mi arrivò... Ecco, lì ero più inconsapevole perché non me l'aspettavo. Sono i festival più belli, banalmente, insomma, ma è così, è la verità. Secondo me Giffoni, come ogni fenomeno aggregativo per ragazzi giovani, vince già solo per riunire così tanti ragazzi giovani in un posto intorno, chiaramente, a una cosa come il cinema, insomma, è quello che facciamo e ci piace. Però, secondo me, quello che poi ti resta dentro, ai ragazzi, quello che dovrebbe restare dentro, è proprio questo senso di comunità, di aggregazione, di stare insieme. Allora, non vorrei dire, ma al di là di chi viene dell'incontro che può piacergli più o meno, o di quello magari in cui sono un po' più annoiati, secondo me è l'esperienza di Giffoni e il loro stare insieme, il fatto che si ritrovano tutti insieme in un posto come questo che lo rende speciale. Indubbiamente poi arricchidolo al fatto che probabilmente per alcuni di loro sarà anche una... diciamo un percorso magari iniziatico, qualcuno diventa un regista, uno sceneggiatore, qualcuno continuerà a fare un lavoro, per altri sarà solamente un ricordo estivo, no? Ma però che bello, cioè che cosa magnifica. Allora, caro, carissimo Giffoni, innanzitutto grazie per avermi invitato per la seconda volta. Io sono sempre pronto a tornare, in consiglio di momento tu. Quello che voglio chiederti è un consiglio più che altro, perché io, insomma, ormai ho 48 anni e so che tra un anno tu ne farei 50. Quindi ecco, magari puoi darmi qualche consiglio su come affrontare, diciamo, questa soglia, è, diciamo, notevole dei 50 anni, ma anche di traguardi raggiunti, no? È un percorso incredibile, perché so che te hai iniziato 50 anni fa con un lenzuolo in una parrocchia, mi hanno raccontato. E quindi arrivare a tanto e fare così tanta strada è un esempio. Quindi aspetto una risposta sul serio. Auguri per i 50 anni.